Franceschini, Bersani ha detto che non ci sono le condizioni per fare le riforme con Berlusconi, lei condivide o no? Ma è difficile credere a Berlusconi, in tanti anni non ha mai fatto una riforma vera, molto probabilmente anche questa volta è soltanto tattica, un modo per non affrontare i problemi reali degli italiani e per coprire lo scontro confini. Ma questo paese non ha un assoluto bisogno di fare le riforme? Assolutamente sì, dopo tanti anni di destra al governo questo è un paese in cui drammaticamente i più ricchi diventano più ricchi e i più poveri diventano sempre più poveri e noi dobbiamo fare una battaglia profonda sui valori per ridurre le diseguaglianze, per valorizzare quell'Italia piena di talenti, talenti delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, piena di qualità, piena di valori positivi, noi dobbiamo essere la voce di questo paese. Dopo il grande dissidio tra Fini e Berlusconi, Fini può essere un interlocutore privilegiato del PD in Parlamento? Non bisogna trascinare Fini in scenari confusi, dobbiamo prendere atto che è un nostro avversario, un uomo di destra, ma che sta contrastando una concezione padronale di quello schieramento e che vuole fare uno schieramento conservatore normale, europeo e quindi è una battaglia che va guardata con attenzione. È vero che lei lo ha chiamato al telefono per pregarlo di difendere il bipolarismo? Guarda, io sono capogruppo del più grande partito di opposizione e Fini è presidente della Camera, è normale che ci sentiamo con frequenza.